Questa scultura in rame inaugurata nel centro storico all'ingresso della Casa Museo è ispirata dal santo patrono di Chiauci San Giorgio. L'ha realizzata l'artista Antonio Mascia. Da anni vive a Torino ma resta sempre molto legato al suo paese d'origine. La scultura rappresenta San Giorgio, il drago e la principessa. Una scultura, direi una pseudo buca delle lettere, che è stata commissionata qualche tempo fa dall'allora sindaco Egido di Pilla per una grande mostra a Ferrara sul tema di San Giorgio. Abbiamo pensato appunto a una scultura non troppo invasiva che fosse, come dire, leggera e in effetti è una struttura in ferro ricoperta con una lastra di rame sagomata ed incisa, per cui addirittura è una matrice. Raffigura naturalmente il santo che a cavallo colpisce immediatamente questo drago enorme che però ha in mano, in palmo di mano, questa principessa che stava appunto imbucando una lettera di soccorso. L'inaugurazione della scultura ha dato a molti anche l'occasione di dare un'occhiata alla mostra dedicata alle cartoline. Mascia, conosciuto infatti anche come il cartoliniere, le ha esposte in varie mostre. Nascono proprio a Chiauci, ormai io direi da 40 anni circa. Durante le vacanze ho sempre disegnato cartoline da spedire soprattutto a me stesso in modo da ritrovare poi al ritorno la buca delle lettere appunto piena di disegni. Le cartoline sono in realtà dei piccoli disegni, tutte originali. La Casa Museo dei Chiaucesi non si limiterà a ospitare mostre. L'obiettivo del commissario prefettizio Giuseppina Ferri è quella di farne un punto di riferimento e di aggregazione per tutta la comunità, a partire dai giovani. Abbiamo iniziato questa giornata con l'apertura di questa istituzione culturale che è il Museo di Chiauci, la Casa Museo, ma deve essere qualcosa di diverso. Un punto di riferimento per i giovani, vorremmo mettere un punto internet collegato ad altri centri culturali della regione, poi faremo anche delle mostre di arte moderna, altri tipi di mostre, tutto ciò che la comunità locale vorrà fare e quindi saprà come sfruttarlo.